Ci troviamo nel campo da calcetto di fronte alla chiesa di Montecchio, la vedete qua alle mie spalle, dove nei giorni scorsi sono successi alcuni episodi di assembramenti da parte di ragazzi più giovani. Degli episodi che hanno richiamato anche l'attenzione dei residenti, qua anche delle forze dell'ordine che però hanno deciso di non intervenire. Una situazione molto complessa, viste anche le normative che vietano di fare assembramenti. Ragazzi che si riuniscono qua la sera negli orari notturni, soprattutto dopo la mezzanotte. Una situazione che però, dopo il decreto che è entrato in vigore nella mezzanotte di venerdì, non dovrebbe più verificarsi, visto che è previsto un coprifuoco, nonostante la regione Marche sia in zona gialla, un coprifuoco che dovrà partire dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, salvo comprovate esigenze lavorative e per necessità oppure per motivi di salute. Il tutto nella speranza che anche le soglie di ragazzi più giovani possano rispettare queste normative. Manca pochissimo anche al Natale, una situazione molto complicata, quella in cui si è ritornati per l'emergenza coronavirus. Ora la regione Marche vive una situazione rispetto a quella passata leggermente migliore, ma bisogna sempre rimanere con la guardia molto molto alzata. Siamo con un residente della zona qua di Montecchio, vicino alla chiesa. Abbiamo segnalato appunto la presenza di questi ragazzi, soprattutto a tarda notte. Un messaggio anche di sensibilizzazione per una fascia di età molto giovane, anche per il periodo in cui stiamo vivendo, quello delle covid, non solo, comunque per gli schiamazzi che sappiamo danno comunque fastidio. Nella speranza poi, con le nuove normative coprifuoco dalle 22, non dovrebbero più accadere. Speriamo bene, speriamo con questo affare che i ragazzi siano più responsabili e vanno a dormire più prima, perché con una cosa così grave ci si mette tutti un po' allarme via. Si parla di una fascia di età di ragazzi molto giovani più o meno? Dai 12 ai 15 anni più o meno. E quindi si è una fascia di età molto molto giovane. Secondo lei in ultimissima cosa è più una colpa di responsabilità di ragazzi? A volte si parla anche un po' dell'educazione. C'è un po' di tutto in mezzo all'educazione, non c'è più famiglia, cioè c'è un po' di tutto insieme. Oltre a fare comunque, penso, rumore lasciano anche magari, abbiamo visto anche un po' di bottiglie in giro qua nel campo. Bravo, bravo. Il custode quasi tutti i giorni viene a riciclare quello che lasciano la sera.